Adesso voglio proprio rimassare, ho arrivato a sera, mi approfitto per leggerli giornali, piano piano, la poltrona, mi messo in posizione, prevate, il problema sapete qual è, perché qui non vado più a letto, finirà che mi addormento da sotto, e guardate come si sono in completo scarico, veramente, veramente unica, robusta, comoda, morbida, bella da vedere, a 590 euro, dove la trovate? Telefonate al numero che avete visto dell'impressione, perché per questa telepromozione a 590 euro, vediamo la poltrona con il lift, quindi l'alzata che avete visto. Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con Pixel, quarta puntata per la nostra trasmissione, come avete sentito dall'anteprima e come potete leggere in sovraimpressione, Brescia si mette in vetrina. Come sempre noi giochiamo con i titoli, questa sera vogliamo parlare della nostra città e del suo futuro di attrattività per i turisti e anche per i cittadini che la vivono. Partiamo da un'intervista realizzata la settimana scorsa sul quotidiano Brescia Oggi, dalla collega Natalia Danesi al sindaco Emilio Del Bono, della quale parleremo tra pochissimo, e nella quale il sindaco ha parlato della città che sta cambiando pelle, che deve cercare una propria vocazione, ha parlato un po' di quelle che potrebbero essere le idee per il futuro. Una discussione, un confronto, diciamo così, che si è aperto sulle pagine del Brescia Oggi, che vogliamo continuare questa sera qua in studio con i nostri ospiti. Vi li presento subito a partire da Antonio Massoletti, buonasera, consigliere del sindaco, fa parte dello staff del sindaco per questioni legate ovviamente al commercio. Lei ha tenuto e sta tenendo diversi incontri anche con i commercianti della città. Buonasera, benvenuto anche Pier Giorgio Piccioli, presidente di Confesercenti. Buonasera, tante discussioni anche che riguarderanno Confesercenti con le prese di posizione delle ultime settimane, non solo, da tempo si parla appunto anche di natalità, mortalità delle attività commerciali e anche del piano sosta. Buonasera anche a Carlo Massoletti, presidente di Ascome Conf Commercio Brescia. Buonasera, benvenuto. La presento anche in qualità di amministratore delegato di Brescia Tourism, perché questo nostro confronto verterà anche su questioni turistiche, è inevitabile, si parla di attrattiva della nostra città, in qualche modo toccheremo anche questo ambito. Buonasera e benvenuta anche a Francesca Guzzardi Piovani, presidente del consorzio Brescia Centro, che compie quanti anni? Siamo già a nove anni. Insomma, una bella attività che potrà darci anche la sua visione, come abbiamo anche letto sulle pagine delle Brescia Oggi, in merito a Brescia Futura, a Brescia del futuro, la sua vocazione. Io direi allora, per iniziare a parlare, sentiamo proprio cosa ha detto il sindaco Emilio Del Bono alla collega Natalia Danesi e cosa è uscito ovviamente sulle pagine del Brescia Oggi, perché da qui inizierà la nostra discussione, il nostro confronto. Venerdì 17 ottobre Brescia Oggi pubblicava un'intervista al sindaco Emilio Del Bono su come ha intenzione di rilanciare e far cambiare il centro storico. Come nasce questa intervista? Sì, dunque noi siamo partiti da qualche buon segnale che abbiamo visto in centro, da partire un po' dall'affollamento, dalla notte della cultura, fino ad arrivare all'apertura di un paio di nuovi locali, un bar in Piazza Vittoria, un ristorante che insomma aprirà in Piazza Mercato e siamo andati dal sindaco a chiedergli un po' come amministratore come vede il futuro del centro, soprattutto delle piazze che sono un po' il cuore dell'aggregazione e il sindaco ci ha dato qualche spunto molto interessante. Qual è la sua visione? Ma innanzitutto sicuramente anche il sindaco condivide il fatto che ci siano alcuni piccoli segnali di ripresa, tra virgolette, che però devono essere supportati ovviamente sia da una disponibilità da parte dei commercianti sia ovviamente da politiche di rilancio ancora più decise e a partire per esempio annuncia alcune nuove pedonalizzazioni e altri interventi proprio di promozione a favore del commercio e anche della ristorazione in centro storico. La visione interessante diciamo che ci ha dato in questo articolo è soprattutto quella delle vocazioni, delle diverse vocazioni che deve avere ogni piazza in centro, ma anche dell'allargamento del perimetro del centro storico che nella sua visione deve arrivare un po' fino alla zona culturale, quindi la zona dei musei, Piazza del Foro, Piazza Tebaldo Brusato, che anche esse devono diventare insomma un luogo attrattivo per i turisti e anche per i cittadini. Per quanto riguarda le piazze invece c'è stato qualche spunto, diciamo per esempio il sindaco ci ha confermato l'idea di dedicare largo formentone ai fiori, sia per quanto riguarda il mercato o comunque degli eventi settimanali che verranno organizzati a partire dalla nuova stagione primaverile, sia per quanto riguarda il muro verticale, il giardino verticale, che si sta pensando in collaborazione con l'associazione Floro Viva Isti. Per quanto riguarda invece Piazza del Mercato, conferma l'intenzione di organizzare alcuni eventi musicali, comunque anche probabilmente nel periodo natalizio, eccetera. invece Piazza Logge e Piazza Duomo vengono pensate comunque anche per la ristorazione, soprattutto Piazza Duomo che adesso anche con la nuova collocazione di Tavolini ha trovato insomma un po' la sua vocazione. Abbiamo sentito un'idea vasta, articolata, grazie a Natalia Danesi e grazie a Carola Fiora che ha realizzato l'intervista e giro subito la palla per così dire a Piccioli. Raccogliete voi questa sfida? Noi non abbiamo capito che sfida dobbiamo raccogliere. Raccogliamo l'invito a far sì che la città diventi sempre più bella, più ricettiva e quindi dare la possibilità ai nostri negozi di lavorare e di conseguenza ai cittadini di vivere meglio. Innanzitutto faccio una piccola correzione, i bar e i ristoranti in Piazza Mercato nuovi saranno due e non uno, quindi è un'altra notizia positiva che possiamo dare. Abbiamo alcune osservazioni però da fare e quanto diceva la giornalista danesi ci sono alcune cose che ci preoccupano, ci preoccupano, l'abbiamo anche sostenuto nell'intervista e questo modo un po' forse probabilmente, lo dicevo anche prima fuori onda, ormai è nata la moda dell'annuncio, la moda di dire tiriamo fuori la cosa e poi vediamo qual è la reazione e dopo eventualmente la correggiamo. Mi riferisco proprio ai parcheggi, mi riferisco, ho sentito adesso alla pedonalizzazione di nuove aree, cosa che già c'è stata nel dibattito politico nei mesi scorsi, poi per fortuna, anche lì buttata, poi ritirata, qualche assessore d'accordo, qualche assessore non d'accordo. Noi continuiamo a privilegiare, ripeto, siamo d'accordo su qualsiasi iniziativa, voglia fare l'amministrazione per valorizzare il centro storico, però la procedura per noi deve essere assolutamente il contrario, cioè si deve individuare un'idea, un'iniziativa, ovviamente l'amministrazione non può stare ferma alla sua logica, ai suoi convincimenti, però prima di annunciare, proporre, tentare, fare, dovrebbe prima confrontarsi con le associazioni di categoria, con il consorzio Brescia Centro, con tutti coloro che hanno dei suggerimenti, è stato fatto l'esempio, e qui mi taccio, che poi eventualmente successivamente vuol dire qualcosa anche nel discorso di bar e di ristoranti, magari apparendo un po' gufo, però mi piace, anche se sono ottimista di natura, se devo fare faccio anche questa parte. L'esempio che è stato fatto, per esempio, di Piazza del Duomo, la soluzione che è stata trovata, che è una soluzione positiva, non è stata una soluzione trovata in 5 minuti, anche lì c'è stato il solito tiramolla, ma la facciamo tutta, la portiamo avanti, la riempiamo tutta, non la riempiamo a metà, per poi trovare una soluzione che era poi la più logica, perché poi le soluzioni migliori sono sempre quelle, poi che poteva prendere mia nonna e mia mamma, con tutto il rispetto che ho per queste due persone. Non c'era bisogno né di tecnici né di altri, perché capire che se il problema è di avere il cono di luce, la parte notte alla parte sud della piazza, non avere qualcuno che lo ostruisce, ma dare lo stesso spazio, magari andando avanti un metro, mi pare una soluzione. Ecco, noi siamo disponibilissimi a questi confronti, siamo disponibilissimi a lavorare al fianco dell'amministrazione comunale, per raggiungere, ecco però ritorniamo un po' anche... Dopo mettiamo sul tavolo anche quali sono le problematiche delle quali discutere, passo a Massoletti, c'è un tutto percorso da compiere prima di arrivare a questo bel progetto, quindi? Ma sì, ma io credo che... Le cose che ha detto il sindaco sono tutte estremamente condivisibili, le progettualità sono tutte molto buone, ecco io credo che il percorso deve essere un percorso condiviso, perché l'unico rischio che vedo anche io è quello, diciamo così, che gli attori in campo che devono concertare tutti gli interventi magari vadano ciascuno un po' per conto proprio. Se riusciamo a fare invece in opera un'attività concertata, credo che abbreviamo i tempi, credo che saremo più incisivi, soprattutto poi nell'ottica degli obiettivi, che ci siamo tutti quanti posti, che sono quelli soprattutto di essere pronti per l'anno prossimo con una città accogliente, perché voglio ricordare che l'anno prossimo è l'anno di Expo e ci risulta tra l'altro che Brescia sarà attenzionata molto da parte di turisti e di operatori che verranno dall'estero, perché a Milano ha già, diciamo, ultimato la propria capacità ricettiva, da un lato, dall'altro si propone con dei costi che sono dei costi molto significativi e l'utilizzo della brevemi che collega molto rapidamente Milano a Brescia probabilmente permetterà anche a Brescia di essere una città molto raggiungibile e perciò primatrice rispetto anche a questa affluenza che ci aspettiamo per Expo. Perciò direi che si possono mettere a posto e sistemare tutte queste progettualità in quest'ottica, soprattutto se lo facciamo insieme. Francesca, il consorzio si pone anche queste questioni, l'anno prossimo bisogna essere pronti, ci sono delle problematiche che non si possono ovviamente tacere. Prioritario la concertazione, quindi anche per voi? Allora, prioritario. Ci sono tante cose prioritarie. Intanto noi la sfida l'abbiamo accolta nove anni fa, ancora prima che ce l'adesse il nostro sindaco attuale e ci siamo posti il problema di che cosa fare nel centro storico a livello di marketing e comunicazione. Volevo così dare una piccola spiegazione e dire che cos'è il consorzio. Il consorzio è un gruppo di commercianti che si sono uniti per fare del marketing nel centro storico, per presentarci tutti quanti uniti e fare dei percorsi condivisi. Con chiunque, con le associazioni di categoria, in primis con l'amministrazione e comunque con tutti coloro che fanno parte, che lavorano con il centro storico. Quindi noi la sfida l'accettiamo e vogliamo continuare ad accettarla. Abbiamo bisogno però sempre di una programmazione. La programmazione non deve essere a breve termine, deve essere a medio e lungo termine. Perché se si dice che i bar devono stare aperti perché ci sarà del turismo o perché la piazza cambierà, bisogna, o i negozi anche, anche i piccoli negozi, hanno bisogno di organizzarsi in un certo modo. Quindi per noi la programmazione è molto importante. Io sono un po' pragmatica, sono realista. Abbiamo bisogno di sapere cosa succederà, non dopo due mesi, non dopo tre mesi, ma anche l'anno dopo, in modo da poter programmare anche il nostro lavoro. Ecco, perché programmare il lavoro non è cosa da fare oggi al domani, con il tempo di crisi che stiamo vivendo, con il personale, insomma, con tante questioni. Doni Massoletti, quali sono le problematiche che nel corso degli incontri che state facendo sono emerse? Come pensate di muovervi? Allora, innanzitutto faccio una premessa. Voglio spiegare un attimo che cos'è il consigliere del sindaco. Il saggio del sindaco. Il saggio, che è una parola bruttissima che non mi piace. Il sindaco del Bono mi ha investito, mi ha dato questo incarico, che è un atto di fiducia estrema e di stima nei miei confronti. Mi sono messo a sua disposizione, anche perché non dimentichiamolo, che il sindaco del Bono è anche il nostro assessore al commercio. E quindi mi sono messo a sua disposizione cercando di aiutarlo e di supportarlo su quelle che sono le competenze all'interno del commercio. Dico questo perché mi sono messo dall'altra parte, e cioè dalla parte dell'amministrazione, cioè dalla parte di chi governa. Da commerciante. E da commerciante, e ci tengo a dire perché io principalmente sono commerciante, mi sono messo da quella parte e sto constatando quanto effettivamente sia difficile gestire una città e quanto sia complicato. Perché tutte le cose, anche quelle che sembrano più semplici, in realtà non sono mai semplici. Brescia è una città grande, perché 200 mila abitanti non è una piccola città, non è una città facile da amministrare, ed è una città che ha rischiato negli anni scorsi di trovarsi, non dico nel baratro, ma quasi isolata su un'asse Milano-Verona. Oggi Brescia sta cambiando, l'idea di città sta cambiando, sta cambiando anche in noi stessi che la viviamo. Brescia oggi è più recettiva, è più pulita, è più ordinata, le stesse piazze di cui parlava Piccioli prima, io credo non ci sia nessuno che oggi possa contestare quelle scelte, perché le hanno viste tutti. È una città che si sta svecchiando. Il problema, secondo me, siamo proprio noi. È il commercio che, come tu hai detto adesso, che sta vivendo un periodo veramente difficile, perché sotto questo vento gelido le aziende continuano a ripiegare, questo vento gelido che si chiama crisi, che si chiama recessione. E quindi fa fatica il commercio a stare al passo di questi cambiamenti che l'attuale amministrazione sta portando. I problemi sono tanti, sono tanti. Ultimamente lei parlava di un incontro con... Ci sono vie che soffrono anche in maniera più forte. Sì, si parla di corso martiri della libertà. Rispetto ad altre. Un incontro fatto ultimamente con i commercianti di corso martiri della libertà che hanno portato sul tavolo delle problematiche che magari in altre vie non ci sono, dimostrano quanto ci siano zone che più soffrono rispetto ad altre. Corso martiri è uno di quelle. Ecco, io, siccome abbiamo la pubblicità che incombe, direi, di mandare la pubblicità, poi rientriamo con le interviste realizzate appunto tra i commercianti a vedere quali sono le problematiche per poi affrontarle in modo pratico e andare proprio al cuore del problema. Quindi a tra pochissimo dopo una pausa pubblicitaria. Non ben ritrovato, non ci si seguono mai da anni. Oggi la Logar vuoi restituirvi con una super offerta, una stufa pellet a partire da soli 890 euro. Sì, signori, 890 euro per avere una stufa ventilata che scalderà i vostri ambienti. Telefonate subito al numero 030 74 35 584. Oppure venite a toccare con mano la qualità dei materiali con cui sono costruite le nostre super. Più di 50 articoli prodotti totalmente in Italia con una garanzia di convenienza, qualità e sicurezza secondo i più sedenti che è europeo. Siamo aperti tutti i giorni, anche la domenica pomeriggio, dalle 14 alle 18 e ci troviamo vicinissimi al casello autostradale di Ponte Oglio, sulla 4 Milano-Venezia. Chiamateci subito e vinceremo una bassa gamma di stufi a pelle dalle intramontali di Suse in Salamica Fiorentina. Torniamo a discutere della vocazione di Brescia. Abbiamo annunciato interviste tra i commercianti e quindi sentiamo cosa ha raccolto Carola Fiora. Un centro storico da rilanciare, ha detto il sindaco della città, che ha dei progetti ben precisi da perseguire su questa strada. Ci sono però dei locali storici, come quello alle mie spalle, il Caffè Impero, che da mesi ha le serrande abbassate, negozi storici del commercio che hanno già abbassato da tempo le loro serrande a causa della crisi, ma c'è anche chi scommette nel futuro e invece di chiudere apre nuovi negozi proprio qui nel centro storico. Io ho già un locale in piazza Mercato. Credo in queste piazze. Presumo che Piazza Vittoria ci vorrà ancora un po' di tempo, ma che possa essere sicuramente una carta vincente. Io ho scommesso, spero di vincere la scommessa. Cerchiamo di resistere in qualche modo appoggiandoci ai nostri clienti storici e noi ci siamo da tanti anni, però nonostante tutto anche da noi già la crisi si fa sentire. Con la clientela bene, solo con la clientela. Pensevamo un attimino al metro che aumentasse la gente, ma diciamo che il metro porta tutta la gente sotto terra. Hanno tolto tutti i polmini che c'erano qua in via Gransci. Noi abbiamo tanti clienti, per esempio, anziane, che dicono da via Mazzini, non vediamo qua prendere un etto bruscito crudo per tornare indietro. Noi stiamo lavorando abbastanza bene, perché ci siamo spostati prima, eravamo dall'altra parte verso Piazza Vittoria, siamo venuti in Piazza Mercato, avendo le due entrate c'è la gente che va e che viene. La cosa che forse bisognerebbe chiedere al Comune è di mettere un calmiere sugli affitti, perché i negozi vuoti danno fastidio a tutti. Non è che un negozio vuoto fa piacere a me perché non vendo di più io. Io penso che sia una città con delle grossissime potenzialità, l'azienda per cui sta lavorando ha fatto un grossissimo investimento e quindi ci crede, il negozio nuovo è aperto da nove mesi e tutto sommato le cose piano piano stanno crescendo, bisogna che tutti insieme si rimini nella stessa direzione. Faccio presente ad esempio che ancora abbiamo le luci cittadine che alle 6 non sono ancora accese, creando un effetto dormitorio che sinceramente non va bene. Il Comune sembra che si stia dando anche da fare dal nostro punto di vista, perché anche qua in Piazza del Mercato ha già fatto qualche manifestazione. Se dovessero portarvi il mercato? Oddio, per noi è sempre un bene. Se vuole salvare questo centro bisogna dedicargli attenzione. Eh beh sì, bisogna un po' attivarlo un attimino in più, anche ieri hanno stupidato, hanno fatto la corsa, però c'era già molto più gente. Adesso un po' di turisti si vedono. Eh brava, anche perché siamo seconda città, come città romana tu diresti. Dopo Roma, cioè voglio dire, e chi siamo noi? E chi siamo noi? Insomma Brescia le potenzialità le ha, però ci sono una serie di problemi. Da una parte i commercianti che si aggrappano allo zoccolo duro dei clienti storici che aiuta a tenere un po' le vendite, però dall'altra parte si chiede ai commercianti di rivedere un po' anche gli orari, perché se non erro si chiede anche di renderla più viva dalle 17.30 in poi, perché comunque i tempi della città sono cambiati rispetto a quelli di anni fa, però poi ci sono anche le spese che i commercianti devono sostenere e che non sono indifferenti. Allora, come si fa a coniugare tutte queste cose? Perché avere un negozio oggi, onore a chi ovviamente decide di accettare la sfida, però costa? Sì. Costa? Costa, sì. Questo è il messo. Devo dire che anche il discorso di orario è un discorso che noi tre anni fa avevamo già affrontato, allora ci rapportavamo con l'assessore ai tempi che c'era nella vecchia amministrazione. e abbiamo, ci siamo dati a fare per questo, abbiamo cercato, perché è vero, i nostri orari sono orari vecchissimi e sarebbero effettivamente da rivedere. C'era la costruita pausa pranzo? Sì, però il problema è quello che dicevo prima, cioè in un momento come questo di crisi andare ad aumentare i costi non è cosa semplice, non è cosa facile, per cui per quel che riguarda i negozi stiamo portando avanti quel progetto Brescia Open che sta funzionando molto bene, anzi posso dire che... Per valorizzare le vetrine e i negozi che sono sfitti al momento. Questa è stata un'iniziativa secondo me azzeccatissima che forse dovevamo iniziare qualche anno fa, forse siamo partiti un pochino in ritardo, però giusto per dare una notizia positiva in corso Marti della Libertà proprio in questi giorni si sono raggiunti tre contratti nuovi 6 più 6, quindi 12 anni su tre negozi che erano sfitti da tempo e che sono negozi in mano a Brescia Open per cui ecco, questa è un'iniziativa che sta funzionando molto bene. Notizia nuova è che altri due negozi in via pace verranno consegnati a Brescia Open in questi giorni la proprietà ha deciso di darceli in gestione di farceli gestire questo vuol dire accendere le luci vuol dire pulire, vuol dire esporre qualcosa vuol dire ridare una dignità a certe vie che oggi sono completamente spente anche perché poi un negozio spento crea l'effetto domino che vuol dire che è facilissimo che poi il negozio in parte prima o poi chiuda e iniziano questi discorsi di chiusure che sono quelle che noi dobbiamo stoppare è un'emoragia che va stoppata questa. Sono curiosa di sapere da Ascom, ConfCommercio e ConfEsercenti i vostri associati in merito appunto a queste proposte su cosa insistono? Cosa che preoccupa loro maggiormente? Cioè si parla di cambiare l'ora di lavoro si chiede di essere più appetibili ma la loro predisposizione cos'è che li preoccupa? Guardi, allora diciamo che le norme prevedono che un negozio possa stare aperto ininterrottamente per 13 ore al giorno Però ci sono delle problematiche ovviamente Ci sono delle problematiche perché queste norme poi devono essere conigate all'interno dello schema di gestione di ogni negozio in modo tale che i costi possono essere affrontabili e corrispondano poi riescano a essere gestiti all'interno di una profittabilità dell'attività Voglio anche ricordare che i commercianti bresciani hanno un record nel 1983 sono stati i primi a sfondare l'orario serale e hanno tenuto aperto facendo lo shopping day fino alle 22.30 Nel 1983? Nel 1983? Nel 1983 Me lo ricordo Cioè ogni venerdì sera 1983 prima città in Italia ad affrontare questo tipo di problematiche questo significa e testimonia il fatto che comunque i commercianti e le imprese bresciane storicamente hanno sempre avuto una sensibilità e sono sempre state marketing oriente da questo punto di vista Certo oggi in una situazione in cui nel 2013 cioè l'anno scorso hanno chiuso mediamente un'impresa al minuto molte di queste commerciali ecco un'impresa al minuto artigianale e commerciale molte di queste commerciali ecco questo vuol dire che c'è una situazione di crisi tale per cui evidentemente queste attività sono condizionate dalla capacità dell'impresa di riuscire a gestirle dal punto di vista economico io credo che se i commercianti i bresciani ravvisassero come credo come immagino che possa essere nel futuro la possibilità di sostenere economicamente questo tipo di sport sicuramente lo faranno Il problema dei parcheggi è anche un altro problema del costo anche della inaccessibilità separato fino a quando poi è entrata in vigore anche in funzione della metropolitana però costituiscono ancora oggi un problema dal vostro punto di vista ma guardi piano sosta chiamiamolo così io vorrei fare un passo indietro se me lo consente il problema i problemi che stiamo affrontando secondo me non possono essere affrontati per vari spot e vari punti perché noi potremmo parlare di 300 cose tutte 300 sono importanti e tutte 300 sono una più importante dell'altra parlato di parcheggi la stessa metropolitana è importante perché porta la gente in città ma sappiamo che la metropolitana distrugge letteralmente l'asse fra una fermata e l'altra quindi la distanza delle fermate probabilmente è troppo breve per poter favorire il commercio qualsiasi il costo dei negozi c'è una priorità però c'è una priorità la priorità è sempre filosofica e di impostazione di atteggiamento mentale chiunque abbia il potere dico chiunque dal sindaco di Brescia alla regione alla provincia ai comuni limitrofi all'associazione comuni o capisce prima di tutto deve determinare al loro interno se il commercio è indispensabile per la bellezza e per la vita della città in questo caso della nostra provincia questa è la prima cosa cioè se il commercio è un qualche cosa che ti trovi fra i piedi per caso o se invece è la priorità sembra una banalità ma qui sta tutto il problema supponiamo che venga veduto che è fondamentale se io decido che è fondamentale qualsiasi opera che io faccia nell'interesse della città nell'interesse del mio comune la prima domanda che mi devo porre è quest'opera è funzionale alla crescita al miglioramento al business del commercio questa è la mia domanda mi sembra di capire che per tanti anni era quasi dava quasi fastidio il business del commercio se io faccio una cosa a favore del commercio diventa quasi un favore dato i famosi bottegai si ricordano è proprio una questione anche proprio di atteggiamento mentale e di capacità di introspezione politica se passa questo e non c'è più bisogno di così spot allora quando parlo di parcheggi la prima domanda che mi devo porre non se guadagna Brescia Mobilità o se sta in piedi il bilancio di Brescia Mobilità la prima cosa che mi domando è ma questa rivoluzione chiamiamo così dei parcheggi che in teoria può essere anche se io fossi l'amministratore delegato di Brescia Mobilità non sei stato capace di fare una cosa migliore ma se io al centro della mia attenzione c'è il negozio la prima cosa che mi devo chiedere è ma questa rivoluzione è utile al commercio o è dannosa posso avere delle idee ma oltre che chiedere i miei quattro tecnici e ritorno al discorso precedente sarà importante che lo chieda alle associazioni di categoria ai commercianti e non ve la chiesto nessuno fino a ora non ce la chiesto nessuno la nostra azione è un'azione eventualmente di correzione ma partiamo da questo esempio ma ne potremmo fare altri mille ne potremmo fare invece ragioniamo per momenti ragioniamo per spot lo stesso discorso dei 25.000 che ho letto che sono venuti a visitare i musei che analisi abbiamo fatto di questi 25.000 noi siamo convinti che se il feragosto fosse stato il normale feragosto di 38 gradi ci sarebbero stati 25.000 visitatori ai musei bresciani siamo seri i musei sono importanti i musei sono importanti li dobbiamo rivalutare ma non possiamo il discorso poi in un momento dirò anche la mia sui famosi bar e ristoranti ci sono due bar in più è una cosa meravigliosa è un segno distintivo probabilmente di un cambiamento però non posso parlare dei due bar in più e non parlare dei supermercati che ci stanno minacciando ancora una volta in città perché quando apriremo i nuovi supermercati se li apriremo sicuramente quelle amministrazioni che li apriranno non metteranno al centro della loro attenzione il business dei commercianti ma magari inventando il servizio la clientele ritorneremo ancora a dare un colpo ulteriore negativo al commercio cittadino insomma io voglio superare anche il pensiero degli altri ospiti su questo intervento dei piccoli ci fermiamo per la pubblicità poi ritorniamo subito per continuare questo dibattito tra poco ben tornati a Pixel eravamo rimasti su questo intervento accorato filosofico sull'importanza del commercio bisogna capire di cosa si sta parlando e quale importanza bisogna dare ai commercianti e agli artigiani insomma a chi opera d'accordo ci sono sull'intervento così non posso essere altro che d'accordo è mancato vi siete sentiti un po' bistrattati in questi ultimi anni diciamo che il commerciante non era sicuramente al centro dell'attenzione del centro storico e invece il commerciante è cultura è storia fa parte della città e l'accoglienza senza il commercio di vicinato cioè senza il piccolo commerciante cioè colui che accoglie che conosce anche la clientela non si può parlare neanche di città non si può parlare di centro storico non si può parlare di turismo perché se non abbiamo dei negozi diversi che rappresentano il territorio e la città diventa un'espressione di negozio diciamo standard di negozi format che troviamo comunque in tutte le città del mondo non esiste l'espressione del territorio per cui il negozio è importante anche per il turismo perché dice qualcosa di più differenzia una città dall'altra è vero che abbiamo dei monumenti la nostra città è meravigliosa e attraverso i nostri negozi noi dobbiamo continuare a dirlo e dobbiamo essere forse anche un pochino più orgogliosi perché poi bisogna anche fare di piccole mea colpa anche noi magari abbiamo detto è più bella quella città piuttosto che quell'altra dobbiamo cominciare a dire che Brescia è molto bella ma lo è davvero abbiamo una responsabilità come cittadini oltre che come commercianti Masoletti guardi io le dico qualche giorno fa ho avuto l'opportunità di avere un incontro col ministro della cultura e del turismo Franceschini e questo nel suo intervento che ha fatto una platea piuttosto ristretta ha detto chiaramente che la principale motivazione di turismo per i turisti cinesi e russi che sono diciamo i due turismi emergenti in Italia dal punto di vista delle percentuali di crescita negli ultimi negli ultimi due o tre anni la principale motivazione è lo shopping cioè loro i turisti russi e cinesi vengono in Italia perché ritengono che i centri storici italiani siano molto belli perché ci sono molte possibilità di shopping i negozi sono ben attrezzati ce n'è una grande varietà eccetera ora se questo è una delle principali motivazioni turistiche probabilmente io credo che il nostro il nostro governo debba avere un'attenzione diversa da quella che fino adesso ha avuto nel corso degli ultimi anni non questo governo ma in generale i governi che si sono succeduti verso il nostro mondo voglio ricordare che dal decreto lei ha detto voi sentite bistrattati io personalmente mi sento bistrattato dal decreto Bersani in poi perciò dobbiamo andare un pochettino indietro nel corso dei tempi quando si è parlato di liberalizzazione è l'unico settore che è stato liberalizzato poi è stato il settore del commercio perché qua non c'è più una volta c'era c'era licenza adesso non ci sono più chiunque può aprire qualsiasi cosa si può tenere aperto qualsiasi giorno dell'anno in qualsiasi momento questo è l'unico paese al mondo dove questo succede a Hong Kong i negozi sono obbligati a tenere chiusi tre ore al giorno in teoria qua in Italia questo non succede ecco probabilmente occorre davvero prestare un'attenzione maggiore al comparto voglio anche ricordare che quando si parla di centri commerciali se io faccio prendo l'esempio una città come Barcellona che dal punto di vista commerciale è una città molto importante tant'è che c'è una linea di trasporto pubblico dedicata solo all'area commerciale infatti si chiama adesso mi sfugge il nome esatto però diciamo è un autobus che gira sostanzialmente attraverso tutte le strade commerciali e si ferma nelle zone in cui c'è la maggiore concentrazione di shopping e questo è utile per portare i turisti proprio all'interno delle aree commerciali e c'è un solo centro commerciale e c'è un outlet fuori fuori la città alla distanza credo di 40-50 km noi qui a Brescia abbiamo una concentrazione di centri commerciali determinata dalla disattenzione delle amministrazioni che si sono succedute non solo a livello locale ma anche a livello regionale nel corso degli ultimi anni che è veramente una cosa clamorosa ecco le aree commerciali dell'Inter l'ambresciano sono in termini di superficie superiori addirittura all'area commerciale occupata dal centro storico questo è estremamente danoso ecco se appunto come fare sintesi con queste problematiche poi al centro commerciale si va si parcheggia non solo ma tutti questi centri commerciali hanno anche creato una desertificazione delle licenze commerciali nel senso che la tipologia delle licenze è sparita all'interno di un centro storico oggi noi abbiamo grande abbigliavento calzature cioè se noi giriamo le città come diceva Carlo prima Barcellona parlavamo anche le città francesi lasciamo perdere Parigi andiamo su città di dimensioni tipo Brescia prendiamo Rennes che tra l'altro è una città studiata da Brescia per la metropolitana intorno a queste avazie nei centri medievali intorno che sono i centri storici la tipologia è variegatissima tu camminando vedi ancora gli elettrodomestici che vengono venduti all'interno di questi centri storici vedi i fioristi vedi gli articoli sportivi vedi i negozi di giocattoli vedi ferramenta di tutto per cui tu li giri anche c'è un appeal che noi oggi non abbiamo più anche perché questi negozi low cost che nel frattempo invece da noi continuano ad aprire sono gli stessi che poi troviamo nei centri commerciali uguali uguali identici e perché non si possono riportare questi negozi a quali faceva riferimento lei ma perché probabilmente questi negozi non entrano più perché necessitano è vero di superfici un pochino maggiori rispetto a quelle che ci sono oggi nei centri storici ma hanno trovato il loro sbocco all'interno di tutti questi centri commerciali che ci sono intorno cosa che invece in queste città non è così cioè Carlo adesso parlava di un rapporto centri commerciali abitanti a Brescia che è pauroso noi proviamo a pensare a perché ci chiediamo perché a Natale non vengono più le famiglie in città con i bambini io ricordo da bambino venivo portato sotto Santa Lucia a guardare le vetrine di Bruneri piuttosto che le vetrine del giratore di giocattoli sono spariti tutti non c'è più niente per cui perché oggi una famiglia deve portare i bambini a Natale in centro cioè non c'è più un'appel ribattiamo la domanda perché deve portarla perché bisogna fare cosa per far riportare i bambini o le famiglie in città cosa si può fare perché è di questo che si parla anche perché si può chiedere di modificare gli orari va bene però bisogna portare la gente nei negozi bisogna portarla in città bisogna che la famiglia decida non andare al centro commerciale magari non 5 volte su 5 ma 4 volte su 5 andare in città partiamo dal concetto la città è molto più bella di un centro commerciale al di là del fatto che poi magari a dicembre si rischi di avere meno 5 e nel centro commerciale si sta al caldo non parliamo dal punto di vista turistico ovviamente parlo dell'offerta commerciale io perché devo andare in città a comprare qualcosa che trovi in un centro commerciale dove posso parcheggiare senza problemi e mi riparo dalla pioggia o dal campo secondo me perché in città è molto più facile avere anche un supporto da chi ti vende che è la competenza e quindi una competenza che è molto superiore rispetto a quella che si trova in un centro commerciale ecco per cui già questo è un valore aggiunto enorme ecco dopodiché dopodiché credo che gli eventi che si fanno perché comunque ci saranno anche questo Natale e saranno tanti non può dire nulla ce ne sono stati diversi la città è stata affollata direi proprio di sì per cui ecco tutta questa serie di eventi che tra l'altro magari Francesca ne può anche parlare dopo perché il consorzio sta lavorando molto su queste su queste situazioni ecco questi sono comunque anche un incentivo a venire a portare i bambini anche perché ci saranno eventi anche mirati su di loro e sulle famiglie e tutto per cui insomma non è che si sta fermi nel frattempo perché noi ci rendiamo conto che abbiamo un potenziale e lo sappiamo che è nettamente superiore è chiaro ai centri commerciali è chiaro che la gestione di una città è difficile è molto più facile gestire una scatola di 80 negozi questo sicuramente qualche minuto di pubblicità l'ultima fascia poi abbiamo ancora purtroppo solo 10 minuti per fare un po' sintesi quindi velocissimamente in pubblicità continuiamo a parlare di città gli ultimi minuti per affrontare questo argomento allora ha sentito un po' di commenti e riflessioni ho sentito riflessioni interessantissime e condivisibili il discorso per esempio della Versani che si colleva a quell'accenno che facevo prima io dei bar e dei ristoranti e anche le cose che diceva adesso il consigliere del sindaco in maniera troppo confidenziale no perché è un ruolo importante non è un ruolo quando le cose che diceva lui sono le stesse che dicevano i nostri intervistati che lei ha sottolineato molto precisamente cioè alla fine noi corrabbiamo dicono i commercianti abbiamo i nostri clienti sono quelli che diceva adesso Tony Massoletti cioè quelli che riescono a cogliere la nostra competenza la nostra capacità quelli che sanno di essere seguiti quelli che sanno di essere seguiti oggi però il cliente il consumatore non solo nel commercio in tutto vediamo l'esempio degli istituti bancari vuole andare in un posto e fare tutto io mi ricordo faccio sempre esempio di mia mamma quando andava a fare la spesa mattina andava dal fornaio e comprava il pane andava nel bottegaio e lo trovava nel suo perimetro e dirono oggi cosa fa il consumatore va in un centro commerciale e trova tutto anche il supermercato semplicemente anche il supermercato allora o noi siamo in grado di dare sul nella bellezza della città ecco dice tutto condivisibile nella logica della gioia dei famosi centri commerciali naturali che sono i nostri che sono le nostre città i nostri negozi con la nostra cortesia diamo un servizio sicuramente in questa direzione però dobbiamo anche sapere che dobbiamo smetterla di aprire gli altri perché sennò continuamente la gente se deve timolare a parcheggiare se magari piove c'è la comodità c'è la comodità inevitabile e non guarda più neanche nella qualità la convenienza gliela dà il marchio perché sappiamo il meccanismo dei prodotti civetta cioè crede di andare in un luogo conveniente e quindi diventa molto molto difficile chiaramente le cose che si diceva prima compreso tutte le iniziative che avranno fatte per il Natale ma non solo il Natale che mi pare che il Consorzio e i commercianti del centro stiano lavorando molto bene in questa direzione aiuteranno però tutti dobbiamo lavorare anche un po' per abbattere una concorrenza che continuo a dire non è una concorrenza leale è una concorrenza ci vuole un aiuto indipendentemente dalla volontà ci vuole un aiuto superiore come si diceva di tutta la politica di tutta l'amministrazione regionale detto questo siete dei venditori e i venditori sanno vendere devono saper vendere rendere appetibile la propria merce voi come Consorzio appunto si diceva tante iniziative anche per per i prossimi mesi cosa state pensando intanto abbiamo pensato che dovevamo in qualche modo difenderci da questa legge che ha liberalizzato in modo estremo le aperture e abbiamo ereditato gli shopping night e per un bel periodo abbiamo inventato il giovedì sera non so se ve lo ricordate poi per una questione economica abbiamo dovuto anche lasciare perdere quel progetto e ci siamo dedicati alla calendarizzazione delle domeniche di apertura straordinaria perché tenere aperto tutte le domeniche è veramente complicato però sappiamo benissimo che dobbiamo comunque svecchiarci che dobbiamo comunque dare un servizio per cui ci occupiamo da un po' di anni di questo diamo un calendario che viene seguito dai negozi consorziati e proprio e in queste domeniche creiamo delle iniziative che attraggono e che danno insomma una bella una bella idea della nostra città in positivo perché noi è così che la vogliamo vedere e ad esempio domenica prossima quindi dopo domani saremo aperti abbiamo un'iniziativa in campo che si chiama la Giostra di Berescia un'iniziativa che esiste da un po' che si amplia che si amplia l'abbiamo adottata si esprimerà anche in altre zone quindi arriverà anche in corso martiri in quella domenica i negozi saranno aperti e accoglieranno quindi diamo un ordine diciamo anche agli utenti e in quel giorno lì speriamo di avere parecchie persone che vengono a trovarci noi invitiamo tutti i telespettatori ovviamente nella città perché è bellissimo e poi stiamo lavorando lacramente sul Natale il Natale è una bella partita e si esprimerà in vari modi perché avremo modo di così offrirci anche a livello culturale ma non voglio non svegliamo troppo no 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 basta il nostro Brescia oggi può raccontare anche noi racconteremo tutte queste iniziative pochi minuti ma Soletti ci arriviamo alla conclusione quindi questo questo confronto iniziato non è iniziato cosa si può fare adesso per andare sulla strada giusta e perseguire questa strada quella del dare una nuova vocazione bella forte importante alla nostra città beh bisogna mettere in condizione le imprese commerciali poter stare sul mercato con profitto che sembra una cosa facile a dire poi in realtà è piuttosto complicata piuttosto complicata perché bisogna fare in modo che soprattutto sul piano nazionale vengano presi quei provvedimenti che permettono ai consumatori di tornare a consumare con non dico con il cuore leggero ma con meno paura di quanto non stia succedendo adesso però ecco a fronte di questo volevo registrare una cosa che forse non ci siamo detti ma che credo sia interessante i turisti a Brescia stanno crescendo in maniera molto significativa abbiamo visto che negli ultimi due anni la percentuale di turisti soprattutto stranieri che frequentano la nostra città è cresciuta nell'ordine almeno 30-40% anno su anno e questo ci fa pensare che la nostra città possa essere sicuramente interessante molto interessante poi tra l'altro turisti che esprimono anche un certo gradimento molto interessante anche per coloro che la vedono la prima volta ecco forse noi bresciani come dire ci siamo un pochettino abituati alle bellezze delle nostre città che adesso mano a mano vanno anche valorizzate e credo che questa amministrazione stia lavorando in maniera molto seria per valorizzare ho visto l'apertura del teatro romano che mi ha lasciato veramente a bocca aperta perché è una cosa che era lasciata veramente malamente in maniera brutta da molto tempo è stata riscoperta è stata ben illuminata e credo che anche questa sia una cosa molto preziosa che viene aggiunta si parla della quarta cella che ho avuto modo di vedere qualche settimana fa e anche lì sono rimasto a bocca aperta insomma credo che la nostra città abbia molto ancora da dire e da fare anche poi in termini oltre che monumentali commerciali perché parliamo di 700 prima si diceva tra di noi quante sono le imprese commerciali sono più di 700 credo che questo sia veramente un buon motivo per venire a Brescia piuttosto che andare in qualsiasi altro centro commerciale qui ci sono più di 700 negozi perciò c'è un'offerta veramente importante significativa e credo anche professionalmente esposta con qualità e poi stando gli occhi si vedono tante bellezze Massoletti col piede da una parte tra i commercianti dall'altro nell'amministrazione quindi ben presente e quindi io e quindi io vi dico che lo diceva adesso Carlo l'amministrazione sta comunque lavorando bene al di là di tutto lo stiamo vedendo giorno dopo giorno con la volontà anche di coinvolgere l'impegno l'impegno c'è devo dire che il nostro sindaco è sempre sul pezzo e tra l'altro è un grandissimo conoscitore del centro storico io l'altro giorno giravo con lui qualcuno l'ha definito addirittura Bruno Boni della situazione perché comunque è un sindaco che gira tra la gente e girare tra la gente guardate che non è sempre così facile perché arrivano anche critiche esatto rischi anche di essere criticato e cazziato bisogna raccogliere anche le critiche per migliorare lui è un coraggioso gira tra la gente conosce tutte le situazioni addirittura voi sapete che l'hanno definito addirittura Mastro Lindo l'hanno chiamato così proprio per la sua meticolosità nella pulizia per cui io sono convinto che se riusciamo a superare un attimino questa crisi che comunque è quella che ci sta affondando in questo momento Brescia abbia tutte le possibilità di venire fuori e di ripartire bene perché è veramente ben amministrata in questo momento comunque mi pare di capire che la volontà in città c'è da parte dei commercianti dell'amministrazione il problema sia appunto rivolto a livelli ben più alti qua il governo le iniziative governative devono anche rendersi conto di quanto è importante il commercio e come restituire anche potere d'acquisto a chi poi si riversa nei negozi nelle città sì io credo che i provvedimenti che ha preso il governo quello degli 80 euro sia un provvedimento che va nella giusta direzione ancorché poi non si vedano gli effetti perché probabilmente c'è il freno aumentano anche per altre spese aumentano altre spese ecco probabilmente bisognerà agire in maniera più incisiva su questo versante diminuendo le tasse mettendo in condizione da un lato le imprese di crescere dall'altro poi il consumatore di consumare insomma la volontà di affrontare il discorso c'è? la parte nostra è evidente siamo sempre disponibili anzi adesso suggeriremo al sindaco del Bono di compararsi anche il dolce vita bianco ecco così avremo maggiori occasioni la battuta non è mia è del presidente Massoletti è giusto che gliela conceda e quindi lo riceveremo con grande piacere andremo noi da lui per l'amore di Dio sempre con lo spirito sempre che lo compri in un negozio della città sempre che lo compri in un negozio della città e si faccia suggerire andremo da lui con grande spirito collaborativo poi è chiaro che la madre di tutti i problemi è la fiscalità io l'ho già detto prima magari se avremo modo una puntata sulla fiscalità sui problemi e sugli 80 euro ci sarebbero tante cose da dire quindi faremo una puntata agli 80 euro io lo sono vengo volentieri perfetto io intanto vi ringrazio a tutti per aver partecipato vi auguro buon lavoro naturalmente invitiamo tutti a percorrere le strade e i negozi della nostra città perché è dove si trova bellezza professionalità e competenza diciamo così grazie ci vediamo la settimana prossima con un nuovo argomento e una nuova puntata di Pixel grazie 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 a lei grazie a tutti 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 Grazie a tutti.